Io sono Capitano Arlok. Sono un eroe e lotto per la libertà. Sono un pirata, è vero, ma ho un codice d'onore e combatto quei pirati che vogliono toglierci la bellezza, i sogni e le emozioni che solo il cinema può dare. Unitevi a me nella lotta contro la pirateria, perché se muore il cinema, muore tutto questo. Grazie a tutti.